Si conclude un altro intervento di derattizzazione in città e si pensa al prossimo anno. Qualche settimana fa alcuni cittadini avevano segnalato la presenza infatti di topi in alcune zone del centro storico, le preoccupazioni soprattutto da parte di alcuni residenti per i loro bambini. Un problema questo che potrebbe non ripresentarsi la prossima estate. Vengono per l'appunto pianificati già da adesso gli interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione per il 2017 che interesseranno tutte le zone cittadine, comprese quelle più periferiche, ma anche gli istituti scolastici di competenza comunale. Sì, a seguito di diverse lamentele che abbiamo osservato nel corso dell'anno sulla presenza appunto di topi e di blatte in città, intanto comunichiamo all'intera cittadinanza che abbiamo appena finito la derattizzazione in tutta la città. E' che ovviamente siamo totalmente disponibili e quindi se ci sono delle segnalazioni da fare presso l'ufficio tecnico per fare degli interventi migliorativi ci riteniamo, siamo comunque a completa disposizione. Per quanto riguarda il prossimo anno sarà indetto un bando di gara dove già è stato fissato pure il capitolato per aumentare questo servizio sia di disinfestazione che di derattizzazione. In particolar modo sono previste cinque derattizzazioni nel corso dell'anno e tre disinfestazioni anche nei borghi, in tutto il comune e anche negli edifici scolastici di competenza comunale e anche la disinfezione presso alcune scuole ed asili nido.